Oggi dunque la città di Vittoria ha celebrato e commemorato i propri cari defunti. Come ogni anno l'amministrazione comunale partecipa alla messa che è stata celebrata nella cappella del cimitero di Contrada Cappellaris da Don Vittorio Berillo alla presenza delle autorità civili, militari e religiosi. Questi sono i cosiddetti giorni della festa dei morti, tradizione a cui è particolarmente legata Vittoria e la frazione e le giornate in cui in massa ci si reca al cimitero per ricordare i propri cari defunti. Motivo per cui l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare alcuni interventi al fine di garantire servizi essenziali alla moltitudine di gente che nella giornata di oggi e domani si regherà nella struttura per portare un fiore ai propri cari defunti. Garantiti servizi di controllo e viabilità con la presenza del personale della Polizia Municipale supportata dalla protezione civile anche durante la notte. L'assessore alle manutenzioni Angelo Dezzi inoltre fa sapere di aver predisposto nel cimitero di Vittoria Scoglietti un servizio manutentivo straordinario. Sono stati effettuati manutenzioni nelle varie fontanelle distribuite in tutto il cimitero, interventi di pulizia dei pozzetti raccogliacqua e delle stesse sistemazioni delle cassette dei bagni. Inoltre considerato il prevedibile afflusso dei visitatori nella zona del terzo reparto sono stati sistemati dei bagni chimici. Piccoli interventi che serviranno a ridurre al minimo eventuali disagi una giornata particolarmente intensa. A disposizione dei cittadini anche degli autobus che collegheranno la città con il cimitero e viceversa garantite la presenza di vigili urbani in piazza e nelle fermate di Pullman.